La cornice che ti ho insegnato a disegnare, dove sta? Cercala, non perderla, ti prego. Quella è davvero unica che ti rappresenta per la bellezza che sei tu. Sai come disegnare, sai come inventare, sai dove poter costruire altri mondi. Uno è quello splendido, quello sei tu, semplicemente tu. Lei che crea immagini splendide, ha dentro di sé tanto amore da vendere. E' da prendere esempio su tutto quello che crea immagini splendide e compresso. Lei segue quella via e cerchia altri contorni. Come lunghe passeggiate in riva al mare, che facciamo sempre io e te. E guarda lassù che panorama che c'è. E che cielo stupendo ci sarà, quando lei crea immagini splendide. Unica cornice d'amore più grande che c'è. E che gira attorno al mondo su lei.